Ciao a tutti, questo è il podcast di Pagella Politica. Io sono Carlo Canepa e io sono Serena Riformato. In questa puntata del podcast ci occupiamo del tema politico più importante delle ultime settimane, la crisi di governo. Finalmente, lunedì 18 gennaio e martedì 19, alla Camera e al Senato, si è votata la fiducia a Giuseppe Conte, che come vedremo tra poco, per il momento ha potuto tirare un sospiro di sollievo. In questo episodio analizzeremo un paio di dichiarazioni imprecise, supprimati e rivendicati dal Presidente del Consiglio, e spiegheremo perché è infondata l'accusa contro il governo di voler reintrodurre i termini genitore 1 e 2 sui documenti dei minori. Nella rubrica dedicata al debunking parleremo invece delle nuove condizioni sulla privacy di WhatsApp, che hanno generato un po' di disinformazione e smarrimento. Infine, se avete sentito parlare di attacchi hacker che avrebbero dimostrato la scarsa qualità dei vaccini contro il coronavirus, con Massimo Sandal cercheremo di capire che cosa c'è dietro a questa vicenda. Ma entriamo nel vivo della puntata, con la giornalista Serena ha riformato, che ha seguito la due giorni di crisi in Parlamento con due dirette sul nostro sito www.pagellapolitica.it. Ciao Serena. Ciao Carlo. Per chi si fosse perso quanto accaduto alla Camera e al Senato, ci fai un riassunto delle puntate precedenti? Sì, facciamo un piccolo passo indietro alla settimana precedente. Il 13 gennaio Italia Viva ha ritirato le proprie ministre dal governo, da lì si è aperto un problema non da poco. Il Presidente del Consiglio può ancora contare su una maggioranza parlamentare anche senza il partito di Matteo Renzi? È così che, semplificando, la crisi è approdata in Parlamento. Lunedì 18 gennaio alla Camera e martedì 19 gennaio al Senato. Conte ha reso le sue comunicazioni sull'attuale situazione politica, anche questa è una formula ufficiale, in buona sostanza ha tenuto un discorso su ciò che sta accadendo. Ancora più importante, dopo i discorsi di Conte si sono ottenuti in entrambe le Camere, due voti di fiducia sul governo. Come è andata? Bene alla Camera e non proprio bene al Senato. Il Presidente del Consiglio ha incassato la fiducia della Camera con una buona maggioranza, 321 sì, 259 contrari e 27 astenuti, ovvero i deputati di Italia Viva. Infatti la linea del partito di Matteo Renzi per ora è l'astensione. E sono numeri anche al di sopra della maggioranza assoluta, attualmente fissata a quota 315 su 629 deputati. Ricordiamolo, in genere i deputati sono 630 ma c'è un seggio vacante dalle dimissioni del deputato PD Piercarlo Padoan che oggi è Presidente di Unicredit. Al Senato invece il governo ha sì ottenuto la fiducia ma con numeri più risicati, 156 favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti, i senatori di Italia Viva. Una cifra anche al di sotto della maggioranza assoluta dell'Assemblea, 161 senatori. Ora è importante sottolinearlo, per i due voti di fiducia bastava la sola maggioranza relativa, anche un solo sì in più rispetto ai no e così è stato. Ma rimane un dato politico significativo, una base parlamentare a sostegno del governo sotto quella soglia, prospetta non poche difficoltà nei giorni a venire. La domanda che mi sorge spontanea a questo punto è proprio questa. Conte ha ottenuto la fiducia sia alla Camera che al Senato senza i voti di Italia Viva, come ci hai spiegato tu, ma che cosa succederà adesso? Sappiamo che la politica italiana ci riserva sempre dei colpi di scena e che per il momento non abbiamo ancora sviluppato delle infallibili doti divinatorie per leggere il futuro, ma ci puoi spiegare a grandi linee qual è il quadro attuale e che cosa ci si aspetta potrebbe succedere nei prossimi giorni? È impossibile fare previsioni, come dicevi, infatti non ci proviamo nemmeno, ma diamo qualche punto fermo e il secondo governo presieduto da Giuseppe Conte non è caduto alla prova delle Camere. Questo possiamo dirlo, questo lo sappiamo per certo, ma non è abbastanza, i numeri non lo sono, per considerare la crisi un capitolo archiviato e il governo al sicuro. Infatti una maggioranza striminzita può rendere difficile la gestione dei lavori parlamentari, sembra un tema tecnico ma in realtà è di sostanza. Nello specifico al Senato il governo ha ottenuto quei 156 sì anche grazie ai voti di alcuni fuoriusciti, due senatori di Forza Italia, Andrea Causine, Maria Rosaria Rossi e di tre senatori a vita, Mario Monti, Elena Cattani e Liliana Segre. Ecco, già questi ultimi tre e i senatori a vita più in generale partecipano raramente alla vita parlamentare quotidiana, diciamo così, quindi questi numeri non cambieranno gli equilibri all'interno delle commissioni parlamentari e proprio le commissioni sono un punto dolente nella situazione del governo ed è lì che si concentra l'attività quotidiana, tutto il lavoro preparatorio sui disegni di legge, le proposte di legge, è da lì che dovrà passare un progetto non irrilevante quale il recovery plan. Quindi il primo obiettivo che il governo ha davanti a sé è quello di consolidare la maggioranza, allargare la base parlamentare. L'ha detto Conte, l'ha detto Zingaretti, semplificando significa che dovranno trovare nuove adesioni di quelli che il Presidente del Consiglio nel suo discorso ha chiamato volenterosi. Conte ha fatto un appello ai parlamentari non appartenenti alla maggioranza che però vogliano entrarvi per stabilizzarla e ne ha fatto anche l'identikit, forze politiche che si riconoscano nella tradizione europeista, quindi liberali, popolari e socialisti. Comunque già la prossima settimana si preannunciano nuove scintille. La maggioranza relativa soprattutto al Senato nei voti di fiducia è stata ottenuta anche grazie all'astensione di Italia Viva, ma il 27 gennaio alla Camera c'è un appuntamento delicato, il voto sulla relazione annuale sulla giustizia del Ministro Bonafede. Al Senato deve essere ancora calendarizzato ma in genere si svolge lo stesso anno in entrambi i rami del Parlamento. Ecco, Bonafede non è mai stato il Ministro preferito di Italia Viva, diciamo così, e i Renziani hanno già annunciato battaglia. Ok, quindi tutto molto chiaro, possiamo dire che Conte per il momento non ha molto di che stare tranquillo, come hai sottolineato tu, c'è questo voto il 27 gennaio molto importante, vedremo cosa farà Italia Viva a proposito, se andate a recuperare i discorsi soprattutto di Renzi e di Bellanova al Senato scoprirete che sono stati molto critici nei confronti del Governo, tanto che alcuni avevano paventato durante la diretta al Senato che poi Italia Viva avesse potuto votare contro il Governo, questo non è stato, c'è stata l'astensione, vedremo che cosa succederà il 27 gennaio. Ma veniamo adesso ai nostri fact-checking dedicati proprio al Presidente del Consiglio che alla Camera, al Senato, ha parlato in occasione delle comunicazioni e delle sue repliche al dibattito parlamentare di due primati. Vediamo il primo record rivendicato da Conte sul tema dei vaccini. Sentiamo l'audio da Palazzo Madama. Il piano dei vaccini non vi sfugge, sta procedendo speditamente, siamo i primi in Europa ma dobbiamo continuare a lavorare con la massima determinazione. Allora Serena, Conte ha ragione o no? L'abbiamo sentito sia alla Camera che al Senato, Conte ha detto che l'Italia è la prima fra i paesi europei per numero di vaccini somministrati contro il coronavirus ed è stato ripetuto anche da altri all'interno della maggioranza, soprattutto parlamentari del Movimento 5 Stelle. Ora, secondo i dati più aggiornati, al momento della dichiarazione di Conte, in valori assoluti l'Italia era in testa alla classifica europea insieme alla Germania. Lo siamo anche oggi con circa 1,2 milioni di dosi, anche se la Germania ci ha leggermente superato, sono a 1,4 milioni. C'è una considerazione aggiuntiva da fare. Se si calcolano i vaccini in rapporto alla popolazione, meglio di noi hanno fatto altri paesi, da Nemarca e Slovenia, da poco anche la Spagna. Facendo un calcolo approssimativo, in questi paesi e in Italia la prima dose del vaccino è stata somministrata a una percentuale di popolazione fra il 3 e il 2%. Ottimo, quindi possiamo dire che Conte ha sostanzialmente ragione nel rivendicare il primato in termini di valori assoluti, meno se si fa il calcolo, come hai detto tu, in rapporto alla popolazione. Da quando è partita la campagna vaccinale in Italia e in Europa, tra fine dicembre e scorsi, inizio di gennaio, abbiamo più volte sottolineato però che queste classifiche sui vaccini, come tante altre classifiche che vengono fatte durante questa epidemia, lasciano un po' il tempo che trovano. È vero, l'Italia è partita abbastanza bene perché, come abbiamo visto, è riuscita a tenere il passo nelle prime settimane di vaccinazione rispetto al numero delle dosi che le sono state consegnate da Pfizer, ma bisogna fare almeno due osservazioni di cautela. Innanzitutto il nostro paese ha vaccinato per lo più i membri del personale sanitario e socio sanitario che, se ci pensate, sono le più semplici da raggiungere perché si trovano già negli ospedali o negli istituti di cura. E va anche aggiunto che negli ultimi giorni c'è stato un rallentamento dei ritmi delle vaccinazioni che però è dovuto ai ritardi nelle consegne delle dosi del vaccino. Avrete letto sui giornali che c'è stata molto polemica tra il commissario straordinario per l'emergenza domenica Arcuri e Pfizer, che è stato il primo vaccino a essere autorizzato in Italia, che è quello che sta facendo le dosi più massicce nelle settimane. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni, se la situazione migliorerà o questi ritardi continueranno a esserci. Ma vediamo adesso un secondo primato rivendicato da Conte in Parlamento a proposito delle immatricolazioni negli Atenei dell'Italia del Sud. Sentiamo l'audio. Le immatricolazioni nel 2020 e nel 2021 per la prima volta hanno avuto un segno positivo negli Atenei del Sud. Allora Serena, anche qui che cosa dicono i numeri a proposito? Conte ha ragione oppure esagera nel rivendicare questo suo privato? Conte ha attribuito al proprio governo il merito di aver fatto aumentare per la prima volta il numero degli immatricolati nelle Università del Sud. Però non è esattamente così. In base ai dati ministeriali, nell'anno accademico in corso ci sono state quasi 89.300 immatricolazioni negli Atenei meridionali, ma è un numero di poco inferiore a quello dell'anno precedente. Si tratta di dati provvisori, per cui è molto probabile che i numeri siano superiori una volta consolidati. Ma l'informazione non è del tutto corretta perché la crescita non sarebbe un inedito negli ultimi dieci anni. È vero che le immatricolazioni nelle Università del Sud hanno avuto un calo costante dal 2010 circa il 2016, ma in almeno tre occasioni un aumento c'è stato nell'anno accademico 2016-2017, nel 2018-2019 e l'anno successivo. Riassumendo, possiamo dire che nei suoi interventi in Parlamento il Presidente Conte ha dunque commesso alcune imprecisioni. Se andate sul nostro sito www.vangelapolitica.it troverete un articolo in cui abbiamo analizzato queste due dichiarazioni sui vaccini e sugli immatricolati del Sud e altre, vi farete un'idea più completa di quanto detto dal Presidente del Consiglio sia alla Camera che al Senato e le cose vere, imprecise e errate che ha detto di fronte ai parlamentari. Non ci siamo però occupati solo di fare dei fact-checking sul Presidente Conte, ma abbiamo anche passato in rassegna alcune delle dichiarazioni fatte più di frequente anche dai parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, a cui abbiamo dedicato anche qui un articolo di rassegna con queste varie dichiarazioni. In questo episodio del podcast ci occupiamo del dettaglio di uno dei cavalli di battaglia che ha riguardato un tema abbastanza curioso. Sentiamo di che cosa si tratta direttamente dalle parole della senatrice ex Movimento 5 Stelle Tiziana Drago, che al Senato era considerato un voto in bilico e che alla fine ha votato contro la fiducia conte. Difendiamo i papà e le mamme, tali biologicamente e psicologicamente, mantenendo la tavica dicitura di mamma e papà, anziché genitore 1 e genitore 2. La natura è così perfetta ed armonica che l'evoluzione del linguaggio per un neonato attraverso la cosiddetta fase della lallazione, ripetendo naturalmente mamma e papà. Scusate se è poco. Ecco, dunque secondo Tiziana Drago sembra essere tornato lo spauracchio di genitore 1 e genitore 2 che, se vi ricordate, un paio di anni fa era tornato di moda anche per alcune dichiarazioni dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvino. Ma Serena, spiegaci un po' perché questa storia sui genitori 1 e 2 alla prova dei fatti non sta in piedi. L'abbiamo sentito dalla voce della senatrice Drago, ma in moltissimi, soprattutto nel centro-destra, hanno ripetuto l'accusa contro il governo di voler mettere genitore 1 e genitore 2 sui documenti dei minori. L'ha ripetuto il senatore di Forza Italia Maurizio Gaspari, il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, il senatore dell'Udc Antonio Saccone. Insomma, si è sentita davvero tante volte questa cosa nei due giorni di dibattito. Questa accusa però è infondata e noi l'abbiamo verificato di recente. La dicitura genitore 1 e genitore 2 non sarà reintrodotta perché in realtà non c'è mai stata nei documenti dei minori. Da dove viene questa vicenda? Nel 2015 è stata introdotta la carta di identità elettronica e in base alle disposizioni del biminale nei documenti dei minori compariva il termine genitori, solo genitori, non genitore 1 e genitore 2. Nel 2019 il ministro dell'interno era Matteo Salvini e decise di far sostituire questa dicitura con padre e madre. Di recente in un intervento alla Camera la ministra Lamorgese ha confermato l'intenzione di tornare alla dicitura precedente, ossia quella di genitori. Peraltro la scelta è stata presa per rispettare le osservazioni fatte dal garante della privacy che aveva mosso alcune critiche all'opzione scelta durante il governo Lega Movimento 5 Stelle. Grazie Serena, finalmente le cose ora sono un po' più chiare. Tra l'altro una delle fonti di questa incomprensione che come abbiamo visto ha coinvolto diversi senatori, molto probabilmente sono alcuni virgolettati della ministra Lamorgese riportati da alcuni quotidiani italiani. In alcuni articoli infatti si trovano dei virgolettati in base alla quale la ministra alla Camera avrebbe proprio confermato l'introduzione di Genitore 1 e 2. Noi abbiamo recuperato il video dell'intervento di Lamorgese in Parlamento e anche il testo del resoconto stenografico e Lamorgese ha parlato chiaramente di genitori e non appunto di Genitore 1 e Genitore 2. La senatrice Drago quindi ha riportato un'informazione scorretta. Vediamo adesso un tema per così dire più leggero rispetto alla crisi di governo. Siamo qui insieme al nostro Simone Fontana, collega di Facta, e parliamo di una questione che forse vi ha un po' turbato o creato smarrimento negli ultimi giorni, ossia i nuovi termini della privacy di WhatsApp. Nei primi giorni di gennaio, se siete entrati nell'app di messaggistica istantanea, molto probabilmente avrete ricevuto un annuncio appunto sul dover accettare o meno questi nuovi termini della privacy. Il messaggio si poteva saltare ma in alcune occasioni c'era scritto che si correva a rischio, poi a febbraio di vedersi diciamo bloccato l'utilizzo di WhatsApp. Bene Simone, faccio un po' finalmente di chiarezza su questa questione spiegandoci che cosa avete scritto voi di Facta e perché alla fine non bisogna preoccuparsi più di tanto di questa questione. Sì Carlo, allora i nuovi termini della privacy di WhatsApp hanno effettivamente generato un po' di disinformazione ma anche tanto genuino smarrimento. I fatti innanzitutto. A partire dai primi giorni del 2021 WhatsApp ha iniziato a inviare delle notifiche pop-up ai suoi utenti per avvisarli che dall'otto febbraio 2021 sarebbero cambiate alcune cose nel modo in cui l'app condivide i suoi dati raccolti con i suoi partner commerciali. Si tratta effettivamente di un grosso cambiamento perché tra questi dati ci sono il nome del profilo, l'immagine del profilo, l'indirizzo IP, il numero di telefono, la lista dei contatti e la frase che compare tra l'informazione del profilo, il cosiddetto stato di WhatsApp. L'app di messaggistica istantanea si riserva di condividere queste informazioni con i suoi partner commerciali che, ricordiamolo, dal 2014 includono anche Facebook e tutte le aziende collegate, tra cui Facebook Payments, che è un servizio di pagamenti digitali, e Onavo, che è un'app con cui Facebook fino a poco tempo fa registrava le attività sul cellulare degli utenti che lo scaricavano, promettendo invece di ridurre il traffico dati in background. Già dal 2016 questi dati erano trasmessi da WhatsApp a Facebook, però fino a questo momento il singolo utente poteva scegliere di disattivare questa funzione e impedire quindi la trasmissione. La novità più grossa è infatti che questa nuova policy non sarà negoziabile. L'utente potrà accettarla in toto oppure smettere di utilizzare il servizio del tutto. Questo aspetto ha generato molta confusione, come immaginerai, e per venire incontro ai suoi utenti WhatsApp ha rinviato a metà maggio 2021 la data ultima per accettare le modifiche. Ma quindi cosa cambia concretamente per noi, gli utilizzatori italiani dell'app? Ecco, su tutto il territorio dell'Unione Europea i cambiamenti saranno minimi, e questo grazie al cosiddetto GDPR, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, che non consente alle aziende di prendere decisioni unilaterali sul trattamento dei dati per fini di marketing e profilazione. Per questo motivo, i termini della privacy di WhatsApp all'interno dell'UE di fatto non cambieranno, e WhatsApp potrà condividere con Facebook solo i dati degli utenti per scopi tecnici e di sicurezza. Tranquillizziamo dunque i nostri ascoltatori, aggiungendo che, contrariamente alla disinformazione circolata in rete in queste ore, WhatsApp non conterrà da oggi o da maggio pubblicità, non condividerà le immagini della nostra galleria e non tornerà mai a essere a pagamento. Grazie mille Simone, quindi c'è da stare tranquilli per così dire, la situazione non va presa sotto gamba, potete andare a leggere la nostra analisi sul sito www.fatta.news per farvi una vostra idea e, se avete notato, negli ultimi giorni magari diversi vostri amici o conoscenti hanno iniziato a utilizzare altre applicazioni come Telegram o Signal, quindi non esiste solo WhatsApp, ognuno si senta libero di decidere in futuro di continuare a utilizzare WhatsApp, essendo consapevole delle condizioni che ci sono dietro, o di cambiare applicazione o di mantenerne due o tre insieme. Diciamo che la scelta non ci manca. Dalle misteriosi condizioni sulla privacy di WhatsApp veniamo adesso ai cosiddetti Emalix, i documenti riservati dall'Agenzia Europea del Pharma o che la trasmissione televisiva Report avrebbe ottenuto in esclusivo, almeno così dicono loro sui loro canali social, dal dark web. Questi documenti rileverebbero, secondo loro, problemi con la qualità del vaccino Pfizer. Allora, ciao Massimo, raccontaci che cosa c'è di vero in questa storia e che cosa invece non torna. Ciao Carlo. Sì, quando ci sono di mezzo hackers e dark web, uno pensa subito a rivelazioni scottanti su qualcosa di torbido che si vuole tenere a tutti i costi nascosto. In realtà le cose sono un po' meno eccitanti di così. Vediamo innanzitutto cosa c'è di vero. È vero innanzitutto che il 9 dicembre 2020 l'European Medicines Agency, o EMA, ovvero sia l'Agenzia dell'Unione Europea che si occupa dell'approvazione dei farmaci, ha dichiarato di aver subito un attacco hacker. In seguito a questo attacco sono stati resi pubblici, principalmente sul forum del cosiddetto dark web, ma non solo, circa 50 file, tra screenshot di email e documenti riservati sia del EMA, sia del Pfizer-BioNTech, le aziende che hanno sviluppato il primo vaccino per la Covid-19. Questi documenti risalgono apparentemente a novembre 2020 e sono documenti in cui i funzionari del EMA discutevano sia tra di loro, sia con Pfizer-BioNTech, della produzione e dell'approvazione del vaccino contro Covid-19. Intanto però è difficile dire che si tratti di un'esclusiva. L'Hacking era noto e era stato pubblicato la notizia dal EMA stessa già dal 9 dicembre 2020. E in Italia si è parlato di questi documenti, che sono poi stati chiamati Yemavix, già almeno dal 8 gennaio 2021. Tanto più che secondo Agi, questi documenti sarebbero stati recuperati il 5 gennaio 2021 da alcuni esperti cyberintelligence italiani, della società di sicurezza informatica di Yarix. In realtà oggi confessiamo che non è difficilissimo imbattersi in questi documenti anche senza dover affrugare chissà dove nel dark web. Noi di fact abbiamo avuto modo di vedervi e di capire cosa raccontano davvero. Ora è bene permettere subito che l'EMA ha dichiarato a gennaio che questi documenti sono stati manipolati dagli hacker, secondo EMA per mettere in dubbio la fiducia del pubblico nei vaccini. In generale quando ci sono dei documenti trafugati, come in questo caso, ci si può fidare fino a un certo punto. Quindi prendiamoli con un certo beneficio di inventario. Tutto molto interessante come si dice in questi casi. Pensa che io di questa storia non avevo sentito parlare, ma ora sono molto curioso di scoprirne i dettagli. Che cosa c'è scritto in questi documenti? Davvero qualcosa di compromettente di cui dovremmo preoccuparci? Ma come anticipato è una storia purtroppo meno da spy story di quanto vorremmo forse, ma forse meglio così. È vero che a fine novembre 2020, secondo questi documenti, l'EMA, l'agenzia europea, era stata informata di problemi con la qualità del vaccino. Si trattava di problemi durante quello che viene chiamato in gergo lo scale up della produzione del vaccino, ovvero il passaggio dalla produzione di poche migliaia di dosi di vaccino necessarie per i studi clinici alle centinaia di milioni di dosi da distribuire in tutto il mondo. Ricordiamo che prima della Covid-19 i vaccini a mRNA con questa tecnologia non erano mai stati approvati per l'uso di forze delle sperimentazioni cliniche. Quindi la produzione industriale su larga scala, seguendo anche tutte le rigorose norme di qualità che sono necessarie per dei farmaci, è una sfida tecnologica inedita. Per capire un attimo di cosa stiamo parlando, immaginatevi di dover passare da cucinare la pasta per un paio di amici a dover gestire una mensa che nutre 10.000 persone. È ovvio che non tutto possa andare viscio al primo colpo. E quindi ci sono stati degli piccoli intoppi. Il 23 novembre, secondo i documenti dell'EMA VIX, l'EMA viene avvertata del fatto che i primi lotti di vaccino Pfizer prodotti industrialmente sembrano di essere di qualità inferiore a quelli che erano stati prodotti usati per i test clinici. Per la precisione, nei lotti di produzione industriale quasi la metà dell'mRNA, che è il componente essenziale del vaccino, era ridotto in frammenti non utilizzabili. Ora l'EMA non era chiaro quale potesse essere l'impatto sulla sicurezza della presenza dei frammenti di mRNA nel vaccino, né se questo compromettesse l'efficacia. E quindi la qualità del vaccino è diventata subito per l'EMA una questione di priorità assoluta. Da qui in poi, come si vede nei documenti dell'EMA VIX, è una serie di scambi di mail in cui l'EMA fa pressione su Pfizer e BioNTech per ottenere dati per capire cosa sia successo e per capire se questo problema possa minare la sicurezza del vaccino. Ci sono riunioni, Pfizer invia nuovi dati in cui mostrano che non dovrebbero esserci problemi di sicurezza, promettono però maggior rigore nelle procedure di controllo dei loro stand di qualità e soprattutto il 30 novembre riescono, avendo modificato leggermente la procedura di produzione, a inviare a EMA un nuovo rotto di vaccino, di produzione industriale. E qui la qualità è tornata a livello di prima. Riassumendo, è una questione che in un altro momento sarebbe stata del tutto banale. C'è stato un problema tecnico di sviluppo industriale, si sono occupati di risolverlo, l'hanno risolto, tanto che alla fine in realtà l'EMA ha ammesso candidamente questa questione. C'è un documento ufficiale del 21 dicembre 2020, liberamente disponibile in rete, in cui accennano appunto a queste questioni di produzione che erano state risolte a fine novembre. Grazie Massimo, tutto molto chiaro anche in questo caso. Hai ragione, mi aspettavo ci sarebbero stati dei risvolti più misteriosi per così dire, ma come hai spiegato molto bene tu, alla fine l'EMA sembra uscirne bene da questa vicenda. Tutto qui o c'è qualche piccolo retroscena ancora di cui ci vuoi parlare? C'è un piccolo retroscena che forse è più interessante, anche proprio per come ne esce l'EMA. In molte delle mail che gli hacker hanno reso pubblici si vede il funzionale dell'EMA discutere le pressioni politiche che avrebbero ricevuto, specialmente dalla Commissione Europea, per approvare i vaccini il prima possibile. In particolare cercano di arrivare non troppo dopo le agenzie equivalenti americane come l'FDA o inglesi. Si parla a volte di teleconferenze con la Commissione Europea che sono state descritte come sgradevoli, in cui avrebbero fatto capire al lema che il ritardo eccessivo non sarebbe stato politicamente accettabile. Ora, il bello è che i funzionali del lema non si sognano nemmeno di piegarsi a queste richieste politiche a scapito della sicurezza. Quello che fanno nelle loro email, che sono a volte anche abbastanza concitate, è discutere di come gestire la situazione politica e mediatica se si fossero trovati a dover approvare il vaccino troppo tardi o se addirittura non fossero riusciti ad approvarlo. In altre parole, al lema sanno che rischiano di mettersi in una situazione difficile, ma ricordano sempre che la sicurezza e il rigore scientifico è la cosa più importante e su questo non possono transigere. Infatti lema ha approvato il vaccino più tardi, 19 giorni dopo gli inglesi e 10 giorni dopo gli americani. Ora, all'inizio abbiamo detto che lema ha dichiarato ufficialmente che gli hacker avrebbero manipolato i documenti per minare la fiducia del pubblico nella vaccinazione. Ora, noi non sappiamo se sia così di che manipolazione si tratti, però io devo dire che da quanto possiamo leggere nell'email, in realtà lema, che è la principale istituzione che in Europa certifica la sicurezza dei farmaci e dei vaccini, ci fa secondo me una figura eccellente. Mi rassicura molto, onestamente, aver letto questi emavics per vedere il livello di professionalità dei funzionari del lema. Vi ricordiamo, chiarita questa vicenda, che potete andare sul sito www.facta.news e cliccare sullo speciale vaccino che stanno curando da diverse settimane i nostri colleghi per scoprire e leggere tutte le analisi che riguardano appunto notizie false, tendenziose o corrette e inaspettate, appunto sulla questione dei vaccini che sappiamo essere quanto mai importante. Pagella Politica è un progetto di fact-checking attivo dal 2012 e si occupa di verificare le dichiarazioni dei politici. Facta è il nostro progetto di debanking dedicato alla verifica di notizie potenzialmente false. Seguiteci sui nostri siti www.pagellapolitica.it e www.facta.news e sui nostri canali social Twitter, Facebook e Instagram. Per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale di Pagella Politica su qualsiasi piattaforma usate per ascoltare podcast. Il podcast di Pagella Politica è stato scritto questa settimana da Carlo Canepa, Serena Riformato, Simone Fontana e Massimo Sandal ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Carlo Canepa e questo era il podcast di Pagella Politica.